Ciao ragazzi, sono in compagnia di System Audio, le Legend 40 in particolare. Legend già dal nome vi suggerisce insomma qualcosa di decisamente innovativo e infatti è così, la serie Legend rappresenta il mondo attivo e wireless di casa System Audio. System Audio questa azienda danese veramente accurata, insomma un'azienda improntata al suono live e quindi in tutti i suoi diffusori ha voluto insomma, ha voluto, vuole far sprigionare veramente una potenza di fuoco notevole. Allora Legend 40 è un prodotto che è in grado di sonorizzare praticamente qualsiasi ambiente, molto impetuosa, è già amplificata appunto, quindi non servono altre apparecchiature e prende il segnale in modo wireless da un hub, una specie di diciamo preamplificatore che riceve fisicamente i nostri segnali, quindi giradischi, tv, lettore cd, qualsiasi altro prodotto e lo manda in wireless ai nostri diffusori. Questo è il principio, abbiamo un altro brand molto simile che è Qacoustic, le Qactive su due fasce di prezzo leggermente diverse. Per cui io vi invito se vi interessa il mondo dei, capirne di più del mondo dei diffusori wireless prendete una demo o assolutamente prenotate la vostra demo con System Audio io, io o io? Grazie a tutti.